In Ricolo Versio in Michelangelo, Infinito, si parla molto di talento in questo film, il talento inteso come qualcosa che parte magari imitando e poi va per la sua strada. Volevo sapere se anche nel tuo lavoro il talento è questo e soprattutto oggi, secondo te, è un po' abusata questa parola, talento? Il talento è una parola molto abusata e secondo me nasce tutto non da un'imitazione, però da un'ammirazione. Quando si fa questo lavoro, lavori simili, comunque lavori che hanno a che fare con l'arte, si parte da un'ammirazione, si parte da un'emozione. Vedo un qualcosa che mi dà un'emozione, allora forse anche inconsciamente cerco di riprodurre quell'emozione, però la arricchisco, dei miei limiti, dei miei difetti e mi diventa diversa. Diventandomi diversa la porto oltre, la faccio crescere. Allora a quel punto diventa una cosa mia, una cosa autonoma e quindi da un furto comincia un percorso che poi invece porta a un qualcosa di diverso e di bello. Talento e ambizione vanno sempre di pari passo come Michelangelo? Io non sono per l'ambizione, io sono per la soddisfazione, la soddisfazione personale. L'ambizione è un qualcosa che ha a che fare con il riconoscimento degli altri e Michelangelo sì, voleva essere riconosciuto ma sapeva dall'inizio che poi, sapeva dall'inizio di essere diverso. C'è una frase nel film in cui lui dice, e si era sparsa la voce che quell'opera l'avesse fatta un altro, allora l'ho firmata, dopodiché non ho avuto bisogno di firmare più niente. Queste sono affermazioni pesantissime, durissime e molto forti. Tornando soltanto alla domanda iniziale, il talento oggi? Oggi ci sono i talent show, ma che talento è? Un talento diverso da quello di quegli anni, da quello di quei mondi? Però noi non possiamo mai dire perché vediamo la provenienza di un qualcosa che là non ci sia del talento, perché oggi ci sono strade diverse chiaramente. Ognuno cerca la sua strada ed è possibile che si trovi su una strada che al momento possa sembrare una deviazione o una strada parallela che quindi non si congiunga poi con quella che porti all'obiettivo finale. Il talento se c'è alla fine viene fuori. Grazie mille.